Promuovere la cultura dell'oro verde di Puglia grazie all'associazione Only Food con il contributo Regione Puglia. La quarta edizione del tour dei sapori con l'olio Evo è partita ieri da Biccari. Promuovere la cultura dell'olio in varie tappe fino al 7 di settembre che coinciderà con la raccolta e la premitura viste attraverso visite guidate, degustazioni, eventi promozionali e prodotti DOP. Obiettivo promuovere il territorio attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle sue eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche con particolare attenzione al comparto olio. I partecipanti del tour saranno professionisti del settore. La prima tappa è stata a Biccari con l'accoglienza e la presentazione del progetto. La degustazione e visite di laboratorio. Prossima tappa, visite in azienda con merenda in campo, show cooking e degustazioni tra Torre Maggiore e San Severo. Poi tappa a Vico del Gargano con l'appuntamento in sala consigliare, presentazione delle aziende con visita guidata e picnic in frantoio della città dell'olio per poi terminare nel basso tavoliere tra Lucera e Foggia con lo show cooking e le degustazioni presso le aziende.